Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con Victor Gamer. Allora, oggi giocheremo a Curiosity, un gioco platform in prima persona, dove per superare i livelli dovremo saltare da una piattaforma a un'altra e attivare dei pulsanti per poter passare, diciamo, a livello successivo, comunque risolvere i vari puzzle che si presenteranno. Tutto questo sotto l'effetto sonoro di questa bellissima musica dubstep musica. Quindi iniziamo, per il livello si passa perché io sono abbastanza pronta per metterci di fare una cosa del genere, e iniziamo subito con questa morte. che è albergo. Non morire dal capofone. Sono troppo bravo per morire, diciamo. Subito a questo stupido passaggio. È l'ultimo livello, eh? Ah, guardati. Uh, sono lontani tanto qui. Allora, questo pulsante è lontani. No, volevi attivare gli altri pulsanti. Ah, mi sa che colori è per uscire. Allora, c'è questo o questo. Andiamo di qua perché. Di qua non so questo. Ah, ma l'avvicinano a me. Non so se questo è stranale. Ragione. Ah no, sono io che mi avvicinano a lui. Ho capito che poi scendi e ti riattacchi a quello, capito. Ok. Uh, laser, attenzione. Mamma mia. Vuoi, ah? Mamma mia. Quanta roba. Questo pro che corre. Ho questa musica etica. Ok, 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 ok. Che se? Sono queste legate. Scusa. 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 Mamma mia m'ha pelato, tipo. Mamma mia m'ha pelato, mi ha fatto il naso. Vabbè. Mi riepilanza più. Ah sì. Per vietà. Salta anche l'ase. Non sa bene come fa. Attenzione. Non sa bene come fa. La serina della mini Uji. E mi attacco. Qui c'è la procura di un grande che non si trova in giro comunemente. Però è un bel male. È un bel male. È un bel male. È un bel male. Ok. Perché qui c'è dei simpatici boxetti? Ti li lancio, forse. Non ti dico. Perché mi spari? Non ti ha fatto nulla, torretta. Ah, ok, comunque. L'hai rubato il blocchetto. Ah, c'è la potenza di lancio. Allora, si pari. forza di una tacca lunga in coma poi c'è un'altra possibilità e poi è finito siiii dai ultima possibilità avvicinati se vedi che... aspetta perchè c'è una simpatica torrenta che non vuole risciuttare bravissima bravi bravo oddio c'è un altro guardiamo oh ah è quello che si passa forte nooo nooo non ci voglio credere nooo nooo allora attenzione qui alleniamoci perfettamente oddio guarda che c'è un laser devi stare anche attento ok ok cosa fai? questo è un fantastico checkpoint vero? si anche dove va perchè ti... oddio festa roba non ha saltato non ha saltato non ha saltato ragazzi non ci voglio credere è impossibile studiare ora occhiovi eh quando si attiva vai muoviamoci schiva 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 oh power 3 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 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 non si fa così ok devi settare in modo giusto eh oh mamma mia vai ma come fai a fallo l'altra parte senza la scarpe? no no ce la fai ce la fai ok nooo è troppo semplice per questo oh mio dio oh mio dio oh che vuole oh c'è manca una ragazzi ce la possiamo fare oh mio dio no non saltare si è caldo è un buono ho visto ho visto di perlì magari c'eri sparta che scavati che ammazzava delle mie l'ultimo 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 dai ragazzi sto sudando peso se sbaglio chiedete e la vai yes bitch che pro che pro 4 4 ti pentono anche l'ansia no 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 è una cosa che ti abbassi esiste il boss oh oddio il gruppone deve essere ultra veloce si 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 e anche devo attivare anche i pulsanti perché non era abbastanza difficile capisci beh vabbè colpitemi non c'è problema merda come fai questo non è andata ma che cazzo è lontanese non è andata non è andata dai dai che ce la vuoi mamma mia mamma mia che che prode 5 prova prova forse sono dei pulsanti rossi ti stai a dire non c'è la morte ok questo cubetto andrà portato a qualche parte ovviamente lo fa mille salti senza vedere niente se può semplicemente far saltare il cubettino no non saltare il cubettino proprio i cazzi sui saltanti di quello ok vedo una sega il davanti merda non c'è ah la cosa è possibile del mio no ah vedi se corri in aria c'è il buon gizzard buono ok blocchettino di Udry ma se vedi ah quella di buttaci quella di Giove e se sbagli tipo un colpo sei finito ma nemmeno con tuttora la pazienza del mondo e se non questo è un inferito siamo un po' brutto doiii mamma mia il primo blocchettino ha preso questo proiettivo è quello tu sei mi ce la prende nessuno ma perchè mi sei levata la rettaforma sotto i piedi pezzo di merda questa musica non mi rende più felice comunque nonostante sia figa ci siamo sono morte dici e poi forza artino grande si diciamo per essere ne convinti vedi poi vedi 70 pp ma guarda sto sb ah ma tu sai dove li devo buttare? nel centro della mappa nel centro della mappa no? no? di superiore viena a chi parla di tante devo buttarli di dentro devo buttarli mazzi è vero perchè lì ti ci attacchi così qui è vero e poi nello spazio non si precipita perchè precipita dovrai volare e fluttuare fino a dove cazzo mi pare non in questo spazio ma allora il gioco si leva abbastante forte si è facilissimo vedi perchè non me lo prende? perchè non funzioni? però è la pena non ho non ho e io lo vedi che sto facendo questo oggi è giuro come il cazzo lo tiro poi se cazzo lì sotto anche l'ultimo livello ecco perchè è in questo pezzo di merda si non l'hai successo 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 Perchè una reghiazza, perchè una reghiazza il cazzo. Perchè a volte lo tira tipo come un coglione e a volte invece lo tira pi*****a forte, stronzo! Non l'avevo lasciato! Nooo! Se lo tiri troppo forte, non sa bene o mai, a volte lo tira in culo a sua madre. A volte invece tipo ti fa... Sao, sai che le mani mi sono sudate? C'è l'acquetta di fogna sulle mani. Ma ma mia! Ma vai ma ma mia! Ma dov'è? No, ma dov'è così? Ma vado dentro il lacchio, vado a vedere! Mamma mia! Mamma mia! Ma dov'è quel lacchio? Si che si può sbagliare! Ma è vero! Non posso sbagliare, sono a 2, è la cosa più vicina alla vittoria che mi è capitata finora! Ragazzi ci fermiamo qui, non ci è riuscito a finire questo gioco, perché a di la verità Cat Mario è un semplicissimo gioco di avventura. Quindi non ci resta che salutare e speriamo che il video sia piaciuto come al solito. Lascio i suoi soldini a Missis! Se è finito, iscrivetevi, commentate e mi piace anche la video in iscrizione. Per oggi è tutto, insieme a tutti! Ciao! 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 Non so se mi sbocco il microfono o meno, comunque non mi arreando io, quindi ne ripiazzo lì, e poi è finito questo gioco stronzo e ci riuscirò. Ok, l'ultimo salto ragazzi, no appena scherzavo, sì, sì cozzo, sento il sapore della vittoria in tasca, lo sento, lo sento, lo sento, lo sento, no, 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 non ci volevo credere, non ci volevo credere, se succede una cosa del genere non ci volevo credere, un messaggio a missis che ce l'ho fatta. E ragazzi, vi saluto dopo due ore che ho trovato, ce l'ho fatta, e poi ho fatto la mano all'ultimo che tipo, è vuoto via, questo a caso, cioè, non sentivo un po' dentro se doveva succedere qualche bug alla fine, però vabbè. Vi saluto come al solito, non posso lasciare i saluti a missis che è data via, ma ve l'ho già fatta prima, quindi, niente, ci vediamo al prossimo episodio, lascia un mi piacino, che ci fa sempre piacere, come sempre, lo dico, se volete condividere su Facebook, su Twitter, su quello che volete, intanto ci fate conoscere, così ci andavano a crescere, e niente, qui, un salutino, listo, ciao! 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 Subito!